Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie al Presidente Acquaroli che mi ha chiesto e quindi creato l'occasione di approfondire quello che è uno dei temi più importanti che abbiamo portato avanti in questa legislatura, insieme a quelle che riguardano ovviamente la sanità, altre situazioni legate appunto alle infrastrutture, ma la legge urbanistica era indubbiamente una legge necessaria e non più rinviabile. Dopo 23 anni dall'approvazione di quella precedente noi capiamo bene che lo sviluppo che 30 anni fa prevedevamo sui nostri territori era ben diverso da quelle che oggi sono le esigenze che tutti quanti riscontriamo. 30 anni fa c'era il grande sviluppo urbanistico, c'erano le città che si allargavano a vista d'occhio, interi quartieri, aree industriali. Oggi quello che occorre invece è una rivisitazione complessiva di tutti questi territori che sono rimasti, uso questa parola forse anche stupida, sono rimasti dei territori un po' imbalsamati da vecchie previsioni, di vecchi piani regolatori, variazioni su queste antiche previsioni, pensare oggi a delle variazioni è quasi imparabile, proponibile, chi è sindaco conosce bene le complessità delle attuali varianti urbanistiche e le grandi discussioni che si imperneano spesso su esse e poi spesso non si riesce anche a portarle a compimento. Noi vediamo comparti bloccati all'interno delle nostre città che sono previsti da 20-30 anni ormai superati nelle loro previsioni ma inamovibili, oltretutto un piano paesaggistico anche esso vecchio più ancora della legge urbanistica credo che abbia 35 anni e del tutto anche questo inappropriato ma nello stesso momento blocca proprio qualsiasi tipo di sviluppo perché ogni qualvolta c'è una iniziativa da portare avanti le sovrintendenze giustamente il ministro oppone la questione di un piano paesaggistico vecchio superato che non consente di prevedere nuovi sviluppi. Quindi è una legge vocata al minor consumo di suolo possibile, non parlo di consumo di suolo zero perché sappiamo benissimo che il consumo di suolo zero è di fatto impensabile matematicamente parlando, una nuova strada è un consumo di suolo, un'opera pubblica è un consumo di suolo, però è una legge che prevede per ogni eventuale pur limitato nuovo consumo di suolo una compensazione ambientale, è una legge vocata alla rigenerazione urbana, all'efficientamento energetico, al costruire sul costruito quindi al recupero di aree anche dismesse, aree anticamente urbanizzate magari oggi lasciate spesso anche in disuso, alla perequazione urbanistica, alla sicurezza dei nostri territori che vediamo purtroppo rispondono sempre con maggiori difficoltà anche quelli che sono i cambiamenti climatici che affrontiamo sempre più vistosamente anno dopo anno. È una legge che rimette in movimento la programmazione interamente su tutta la regione perché prevede entro il prossimo anno un nuovo piano paesaggistico regionale sul quale stiamo già lavorando, poi nei sei mesi successivi prevede il piano territoriale appunto della regione Marche, entro i sei mesi successivi i piani di coordinamento provinciali in tutte e cinque le province e poi con la scadenza di quattro anni tutti i nuovi piani urbanistici comunali, si chiamano PUG, sono gli attuali piani regolatori generali. Chiaramente non è una tagliola che cade al quarto anno, sono indicazioni che diamo perché percorrendo e seguendo queste indicazioni si riuscirà ad avere, diciamo così, una nuova pianificazione complessiva su tutta la regione Marche. È una legge, al contrario di quello che un pochino si è letto in questi periodi, che coinvolge tutti gli enti interessati, tutti gli enti presenti sui territori, i comuni, le province che avranno un ruolo prioritario rispetto a quello attuale, la regione Marche, la regione ovviamente, e anche il ministero. Cioè tutti questi enti porteranno avanti, pareteticamente, diciamo, tutte le previsioni di sviluppo dei nostri territori, di messa in sicurezza dei nostri territori. È una legge che snellisce fortemente le attuali procedure. Di fatto al termine di questo percorso di quattro anni non vedremo più, non sentiremo quasi più parlare di varianti urbanistiche. Parleremo, adesso non entro nel tecnico, sarebbe troppo lungo, ma parleremo di aree a vocazione. Cioè se in una città l'area prevista per un potenziale sviluppo urbanistico tipo commerciale è prevista in un tal luogo, quella diventa un'area a vocazione e quando si vuole sviluppare su quelle aree, appunto, uno sviluppo urbanistico di quel tipo, non c'è bisogno di varianti perché è un'area già avvocata a quel tipo di sviluppo. Ripeto, non entro nel tecnico perché staremmo qui molto a lungo e poi è difficile anche spiegare su dei piedi situazioni di questo genere, però è una legge appunto che snellisce fortemente le procedure. Ad esempio, invece di fare tutti gli attuali passaggi per una nuova previsione urbanistica come oggi avviene nei comuni, lungaggini a volte un anno, un anno e mezzo, due anni, spesso non si arriva neanche alla fine. Ci saranno delle specie di conferenze di servizio portate avanti dal Comune con l'apporto appunto delle province, della Regione e anche delle sovrintendenze qualora siano aree con dei vincoli. Sono delle conferenze di valutazione che di fatto indirizzeranno quel tipo di sviluppo e faranno accorciare di moltissimi tempi attualmente previsti per le appunto oggi previste varianti, le famose varianti urbanistiche. Quindi ci saranno fasi molto più accelerate dove ci sarà maggior certezza dello sviluppo quando un imprenditore vuole inserirsi magari in un territorio con delle attività non dovrà più attendere anni e rimbalzi da un ente all'altro ma ci saranno tutti gli enti che tutti insieme in pochissimo tempo diranno la loro su quel potenziale sviluppo. Come ogni cambiamento epocale pone ovviamente dei dubbi e anche delle preoccupazioni in chi opera nei settori, portatori di interesse, enti locali. Ecco questa è una legge che ovviamente merita anche una formazione vera e propria di chi opera nei territori. Tant'è che noi prevediamo già a inizio anno, a gennaio, diversi incontri sui territori di tutte e cinque le province delle Marche dove convocheremo tutti i tecnici comunali e gli ordini professionali proprio per, tra virgolette, istruirli un po' su come applicare questa nuova legge, su come rispondere alle esigenze di questa nuova legge. Perché è chiaro che una riforma che cambia radicalmente, uno status quo che era lì da oltre 30 anni, pone anche giustamente qualche preoccupazione. Soprattutto magari in quei piccoli comuni dove i tecnici sono pochi, spesso addirittura non ci sono proprio persone vocate su quei territori a proporre iniziativa di questo genere. Dovremmo seguirla. Questa è una legge che va assolutamente accompagnata nel suo percorso. Ha all'interno tutta una serie di norme transitorie, quindi in attesa che i comuni approveranno i loro piani urbanistici generali, i famosi Pug. Queste norme transitorie prevedono la possibilità di proseguire sulle varianti non sostanziali, la possibilità di proseguire sulle norme all'interno del cratere sismico senza porre ostacoli alla ricostruzione, pone la possibilità di proseguire sulle varianti SUAP, quelli per gli insediamenti produttivi. E quindi abbiamo scelto anche, lo chiamo così, un atterraggio morbido per tutta un'altra serie di interventi. Ad esempio abbiamo inserito e poi anche incoraggiato ulteriormente con degli emendamenti il fatto che gli enti locali anche sulle varianti sostanziali, quindi quelle che prevedono sviluppo sull'attuale aree agricole, per un paio d'anni si possa proseguire anche con questo tipo di attività. Proprio per non creare uno stacco netto, fino ad oggi si potevano fare alcune cose e da domani non si possono far più, noi sappiamo che abbiamo un arco di tempo abbastanza lungo per consentire a tutti gli enti locali di adeguarsi alle nuove normative senza contraccolpi o situazioni di questo genere. Quindi questo atterraggio morbido che sarà poi supportato dalla Regione Marche anche con dei finanziamenti verso i comuni che intraprendono il percorso per i nuovi piani urbanistici generali e una grande disponibilità, questo il Presidente Acquaròi l'ha detto in molte occasioni, lo ribadisco qui oggi, una grande disponibilità dell'amministrazione regionale a verificare poi l'andamento di questa legge, perché una legge così importante che pone in discontinuità rispetto al passato prassi ormai consolidate merita un'attenzione e perché no? Eventualmente anche potenziali correzioni qualora se ne riscontri la necessità passo passo nei mesi prossimi e negli anni a venire. Io voglio chiarire una cosa, poi chiudo perché la sto facendo lungo, voglio chiarire questa cosa perché è stata fortemente equivocata, ho visto anche in alcuni momenti sulla stampa un pochino anche cavalcata, quello sul fatto che questa legge farebbe terminare il famoso piano casa. Il piano casa è una legge che è stata introdotta nel 2009 dall'allora governo Berlusconi in occasione di quella che fu una crisi economica epocale all'epoca e proprio per arginare quel tipo di crisi incoraggiò lo sviluppo diciamo così nei nostri territori che voleva ampliare un'abitazione, un condominio eccetera, poteva farlo attraverso questo piano casa che andava in deroga ai piani regolatori esistenti. Sapete in quante regioni oggi in Italia c'è ancora il piano casa perché doveva durare due anni quel piano casa, doveva durare anche nelle Marche per molti anni e anche in alcune altre regioni. Oggi, oggi quindi 10 dicembre 2023, il piano casa in Italia esiste nella regione Emilia-Romagna perché lo ha inglobato all'interno della legge urbanistica nuova nel 2017 e nella regione Marche. In nessun'altra regione esiste ancora il piano casa. Perché esiste nella regione Marche? Noi l'abbiamo sempre, le giunte dal 2009 in poi, l'hanno sempre prorogato due anni per due anni. Io ne ho sessore, portai in consiglio regionale a fine 2020 questa proroga che perdurò fino al 2022. Fine 2022 approvamo di nuovo questa proroga ma il Ministero disse basta, non c'è più in nessuna regione, dopo 14 anni non è possibile proseguire con delle proroghe. Fate una legge che lo preveda e lo strutturi. Andammo a Roma più volte, al Ministero, gli parlammo del fatto che stavamo già portando avanti una nuova legge urbanistica che avrebbe previsto anche le norme legate al piano casa. Grazie a questo ci consentirono una proroga di un ulteriore anno fino al 31-12-2023, quindi fine di questo mese e solo al fatto che noi abbiamo approvato la nuova legge urbanistica all'interno di questa legge c'è una norma transitore che consente in buona parte di proseguire anche con le attività del piano casa attuale che altrimenti avrebbe cessato la sua distenza il 31-12-2023. Anzi, se non avessimo lavorato sulla legge urbanistica avrebbe già cessato i suoi benefici al 31-12-2022. Quindi quando si dice questa nuova legge pone fine al piano casa, questa nuova legge consente di proseguire con le attività legate al piano casa, inderoga i piani regolatori generali fino ad un ampliamento possibile del 20%, prima era il 40%, perché oggi il 20%, perché oggi è una norma transitoria all'interno della nuova legge. Quindi il Ministero dice ok, ve lo consentiamo, però poi dovranno essere i comuni che attraverso i loro nuovi piani urbanistici generali, i loro Pug, reinsederanno il piano casa come meglio riterranno opportuno. Di conseguenza la norma transitoria prevede un ampliamento fino al 20%, quindi consente di proseguire con le attività legate al piano casa. Poi ogni comune nel momento che avrà approvato il proprio piano urbanistico generale potrà riportarlo al 30%, potrà tentare di riportarlo dal 40%, l'Emilia Romagna si è attestata al 30%. Quindi il nuovo piano casa è all'interno di questa legge, con alcune prassi diverse, perché prima era una norma definita, oggi è una norma transitoria, tornerà una norma definita quando i comuni la faranno propria. Ecco, questo ci tenevo molto. Alcuni comuni si sono già rivolti ai nostri uffici perché intendono iniziare un percorso già di adeguamento dei loro attuali cani regolatori con le nuove normative. Questo ci incoraggia molto a proseguire e ci incoraggia molto anche a far sì che si possa essere e ci sarà la massima collaborazione tra regioni, province, comuni affinché questo atto sul quale abbiamo lavorato per due anni possa dare i maggiori benefici possibili allo sviluppo del nostro territorio e anche più opportuni. Sono convinto che così sarà e vi ringrazio.